Nel nome di Francesco è così chiamato l'incontro che si terrà domani, sabato 5 gennaio 2019, alle ore 17, presso l'Aula Consilare del Comune di Agropoli. Per l'occasione verranno ripercorse le celebrazioni degli 800 anni, dalla presenza di frate Francesco ad Agropoli e del suo incontro con San Daniele Fasanella. Inoltre, nel corso dell'evento, padre Enzo Fortunato, responsabile della comunicazione del Sacro Convento di Assisi, presenterà il libro Francesco Ribelle. Partecipano alla manifestazione per i saluti Germano Rizzo, presidente dell'Associazione Spirito Francescano, il sindaco della città di Agropoli Adamo Coppola, l'avvocato Franco Alfieri, presidente onorario dell'Associazione Spirito Francescano, e Francesco Crispino, delegato alla cultura del Comune di Agropoli. Interverranno anche Don Carlo Pisani, parroco della Chiesa Madre dei Santissimi Pietro e Paolo e della Chiesa di San Francesco, padre Emanuele Bocchicchio, storico dell'Ordine Francescano, Don Bruno Lancuba, responsabile culturale della diocesi di Vallo della Lucania, padre Antonella Rundine, padre guardiano del Convento Francescano di Lustracilento, modera il dottore Antonio Capano, archeologo e saggista dell'Associazione Spirito Francescano.